La verità e la giustizia La verità sta avendo fuori, la giustizia ancora no Penso che questa manifestazione sia importante per far vedere che nonostante le intimidazioni che dall'alto vengono fatte noi siamo qua a manifestare per far vedere che siamo un popolo pacifista che non vuole che sia contro la guerra e per il bene comune sulle mani dalla bassurda sulle mani dalla bassurda sulle mani dalla bassurda per anche aspettarsi qualche giorno dopo la notte di Pagani e poi la sera con la tragedia della Diaz che appunto ha chiuso in modo veramente osceno e orrendo il forum del 2001 come si sa con quegli risultati e adesso vogliamo che sia una rinascita di questo forum e non solo del forum ma di tutto il movimento ma oggi è un momento bello perché abbiamo moltissimi artisti dappertutto da tutta l'Italia che saliremo grazie a tutti 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 Grazie a tutti